Leggo, c'è scritto e poi lo leggo, però così c'è quel silenzio. Oh, avanti, avanti! Ciao Mario, posso fare entrare anche Davide? Davide Morabito? Per me sarebbe un piacere. Ciao Mario, sto entrando nella tua live. Che cosa state facendo di bello, ragazzi? Allora, ti ricordi... Potete venire qui, così esistete anche oltre alla voce, è proprio la richiesta che... Hai preso di natura e di tua sponte un coltello lunghissimo sotto affilato. Non me ne ho racconto. Ok, ditemi cosa vi serve. Volevamo chiederti se potevamo esplorare il Kallax che c'era lì alla ricerca di una luce. Sì, certo, certo, penso che voi possiate decisamente farlo. Grazie Mario. Ma posso chiederti di dire perché, cosa stai facendo? Stiamo girando il nuovo Merry Act. Che bello, eh? Sei contento delle riprese di oggi, Marco? Non ancora, perché non è successo niente di figo, ma ci stiamo addentrando. Davide, se stai lavorando bene il ragazzone... Stiamo rendendo veramente figo ciò che stiamo facendo. Mario, tranquillo. Io sono qua. Non pensaci neanche a ciò che stiamo facendo. Tipo comunque per voi, in ogni caso, qualsiasi cosa facciate. So che negli spalti ci sarai sempre. Sì, assolutamente. Io però vorrei stare a bordo campo, se posso... Dove vuoi, Mario? Bordo campo. Anche perché hai dato anche tu un apporto. Un apporto a questo, sì. Buona live. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, l'hai morto. Ecco, ho letto la stessa cosa. Sembra quasi un'arma bianca che non si può tenere. Ma cos'è il coltello? Ma poteva anche tenerlo il coltello, però. Cosa... Cosa hai... Cosa hai fatto? Oh! Oh! Cosa hai fatto? C'è? Hanno scritto clippate. Perché? No, pericare il camion. Oh! Sto parlando con te. Ma è un attimo. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Abbiamo chiesto un favore. Eh, il favore te lo ha consentito, ma mi hai fatto qualcosa mentre mi sono girato. Facciamo solamente... Ah, ma che coglione? Sono comprato... Mandatemi la clip adesso. Vedi, dite scopere. Mandatemi la clip adesso. Che scemo. Mandatemi... Eh, perdonaci l'intrusione, ironicamente, non abbiamo trovato nulla. Eh, la luce... Cosa hai fatto adesso? Cosa hai fatto adesso? Hanno scritto clippate allo script. Hai fatto qualcosa... Clippate perché per la prima volta Davide è in live. Clippate perché per la prima volta Davide è in live. Mi sembra molto inconsueto, eh? Minchia! Perché non mandate un... Marco non ha fatto niente. Ciao ragazzi. Ciala è morto. Ecco, ho detto la stessa cosa. Sembra quasi... Cosa vuoi dire? Dimmi. Hai mangiato? Ho mangiato, no. Ma questo cazzo, scherzo? Scherzo, scherzo, scherzo! Ti volevo dire, ti volevo dire. Sto per fare un panino per il video. Ma poi ovviamente non voglio buttarlo. Ne vuoi un pezzo? Certo. Ok. Com'è questo panino? Un sacco di salume e un sacco di formaggio. Bene, bene. Bene. Non voglio mangiare sto gran cazzo. E quello è uno scherzo. Eh, non mi piace come scherzi. Posso abbassarmi a salutare i followers? Certo. Che cazzo fai? Saluta i ragazzi. Saluta i ragazzi, un attimo. Ciao ragazzi. Sono Marco. Vado a girare il mio video. Vi lascio in compagnia di Mario, l'host di questo canale, si dice. Il mio canale. C'è scritto il mio nome e cognome nel canale. Un bacio. Che c'è? Sono incompletamente impazziti. Perché? Non lo so. Ciao, sono Ilme. Bot della sborra. Ma che cazzo? Fanno così da 30 minuti. Ma che cazzo c'è? È un quarto d'ora che non faccio niente. Che guardo la telecamera. Divertiti. Divertiti? Adesso devo giocare il videogioco. Come si fa a smettere... Ma poi dal nulla. Non lo facevano da un mese. Si sono rotti. Ragazzi, smettendela, dai. Perché Mario non merita questo. Messina, eh? Sì, sì. Questo è proprio... Questo è proprio Messina. Un coltello di plastica, stiamo giocando.